Guarda! Guarda! Questi non li dobbiamo restituire. Fa per risarcimento per quello che è successo oggi. Con Nadia com'è andata? A Gagliarda. Con una come lei ci potrei quasi diventare amica. Guarda questa quant'è bella. Ho scelta per la bambina, per il battesimo. Adesso ci manca solo da trovare il nome a questa creatura. Sono Rubini veri, eh? Rubina, spiegate che non gliela fanno più aspettare. Che ne pensi? Penso che è persino meglio di Cesare. O comunque ci ho pensato. Se esce come te, sono proprio contento che è una femminuccia.